E intanto i flussi di rifugiati che dall'Ucraina escono verso diversi paesi europei stanno rallentando ma il numero di sfollati dal paese è altissimo. Ieri il Consiglio europeo ha varato il piano di aiuti mentre in Italia è attesa per oggi pomeriggio l'ordinanza che definirà i contributi economici all'accoglienza per le famiglie italiane e i profughi. Sono 3,9 milioni i profughi fuggiti dall'Ucraina dall'inizio del conflitto, 40 mila nelle ultime 24 ore, un dato in netta diminuzione rispetto al picco di 200 mila ma il numero di sfollati nel paese ha raggiunto secondo l'ONU quota 6 milioni e mezzo, persone che potrebbero dunque decidere di partire. Dobbiamo organizzare un'accoglienza con numeri maggiori, ha dichiarato la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dal Consiglio europeo di Bruxelles che ha confermato il via libera al piano di aiuti, previsti nuovi fondi per gli stati membri e stanziamenti diretti ai rifugiati per l'Italia. La Ministra ha parlato di un contributo economico tramite comuni e protezione civile, proprio l'ordinanza, la firma del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, prevede un rimborso alle famiglie che ospitano i profughi e un contributo per chi provvede da sola al proprio mantenimento, anche se resta da definire l'importo. Al momento sono 74 mila profughi ucraini in Italia, oltre al 90% donne e bambini. Le Piazza Ancanera, Radio 24, il sole 24 ore.